Soprannome. Il macellaio di Monsignor numero vittime. 5 accertate. Modus operandi. Smembramento. Il macellaio di Mons è il nome dato ad un serial killer mai identificato che attaccò in modo brutale 5 donne in Belgio, tra il 1996 e il 1997. Il nome macellaio non era stato dato casualmente. La precisione con la quale tagliava a pezzi le sue vittime poteva essere pari a quella di un macellaio o di un chirurgo. Lo psicopatico, dopo aver smembrato i corpi, chiudeva i pezzi in sacchi di plastica e li posizionava in zone strategiche come i cigli delle strade o marciapiedi, in modo che la polizia potesse facilmente trovare la sua opera. Tutto iniziò il 22 marzo 1997, quando un agente di polizia ha scoperto otto sacchi della spazzatura contenenti resti umani nel sud del Belgio. Sono stati poi esaminati dal magistrato Pierre Pilette, il quale ha stabilito che le braccia e le gambe nelle borse provenivano da tre corpi diversi, tutti donne. Il giorno successivo fu trovato il nono sacco. Il 24 marzo è stata scoperta un decimo sacco, contenente il busto di una donna a Monsignori il 12 aprile, due valigie sono state trovate vicino al fiume En. Queste borse contenevano un piede, una gamba e una testa. I resti umani sono stati trovati nella regione di Mons, così come nel nord della Francia, tra il marzo 1997 e l'aprile 1998, in sacchi della spazzatura. La sistematica mutilazione dei corpi ha reso difficile la loro identificazione. Tutte le vittime avevano in comune il fatto di frequentare l'area della stazione ferroviaria di Mons, e tutte erano afflitte da problemi socio-economici o familiari. Dopo molto lavoro, l'identificazione dei cadaveri fu completata. Carmelina Russo, 42 anni, è scomparsa il 4 gennaio 1996. Il suo bacino è stato scoperto il 21 gennaio nella Schelda. Martin Bonn, 43 anni, ex prostituta francese, è scomparsa il 21 luglio 1996. Nello stesso mese il suo busto è stato ripescato vicino a Monsignor Jacqueline Leclerc, 33 anni, madre di quattro figli, è scomparsa il 22 dicembre 1996. Le braccia e le gambe sono state trovate dal poliziotto il 22 marzo 1997. Nathalie Goddard, 21 anni, è scomparsa nel marzo 1997. Il suo busto è stato trovato nell'Enna. Begonia Valencia, 37 anni, è scomparsa dalla sua casa a Frameries nell'estate del 1997. Il suo cranio è stato trovato a Ion. La notizia della presenza di un predatore seriale destò parecchia preoccupazione. Fu formata una task force, o cella d'indagine, chiamata cella di corpus, guidata dal magistrato Pier Pilette. Tuttavia, dall'inizio delle indagini, la cellula mancava di personale in quanto il caso era considerato locale. Dal 2007, la cella era composta da soli quattro investigatori. Durante le indagini, furono identificate diverse persone come possibili sospetti. In particolare due soggetti. Smael Tolgia. Nel febbraio 2007, è stato arrestato in Montenegro per volere delle autorità degli Stati Uniti dopo essere stato sospettato di aver commesso gli omicidi in Belgio e l'omicidio di sua moglie a New York, nel 1990. L'uomo l'aveva smembrata, quindi il modus operandi risultava simile. Tolgia è stato anche sospettato di aver commesso due omicidi in Albania. Nel febbraio 2009 è stato accusato solo dell'omicidio di sua moglie poiché non vi erano ulteriori prove per accusarlo di altri. Nel febbraio 2010, un medico di 62 anni di Strasburgo, Jack Antuan, è stato arrestato per aver aggredito un estetista. Poco prima dell'accaduto, due lettere che lo accusavano di essere il macellaio, scritte dal figlio, erano state inviate al giudice istruttore, al pubblico ministero e alla polizia. Ma alla fine, approfondite indagini lo hanno assolto da questa accusa. Dal 1997 ad oggi sono state presentate oltre mille denunce sull'identità del macellaio e le indagini non si sono ancora chiuse. Per il momento, l'identità dell'assassino seriale rimane ignota.